Ci siamo, conto alla rovescia agli sgoccioli per questo lunedì 12 febbraio che la Regione Marche, l'Umbra, ma la stessa Italia Centrale, ha cerchiato in rosso da tempo come data, consegna dei lavori del ripristino, dell'inizio del cantiere della Galleria della Guinza. È un punto d'arrivo di un lunghissimo percorso che arriva a questo sblocco e un punto di partenza per molto di più. Un punto di partenza importante per collegare finalmente l'Italia Centrale, per sbloccare dei rapporti che ricerchiamo dal 1800, se guardiamo i documenti di Napoleone, si parlava della necessità di collegare il porto di Livorno con quello di Ancona. Lo facciamo 200 anni e rotti dopo, ma un tassello importante nella strategia di sviluppo del centro Italia. Mi permetta di dire qualcosa in più di tutto il sistema paese dell'Unione Europea, perché così possiamo collegare non solo le due coste italiane, quella dell'Adriatico e quella del Tirreno, ma possiamo collegare l'Oriente, i Balcani e la penisola iberica, il corridoio atlantico attraverso le Marche, che è una magnifica piattaforma logistica naturale sul mare, fatta dal porto, dal nostro aeroporto e dall'interporto, che insieme alla Roma Ancona Ferroviaria e la Fano Grosseto rendono unica la nostra regione da un punto di vista strategico per gli interessi non solo turistici, ma anche commerciali del sistema paese e del centro Italia. Parliamo di una terra di confine, ma tutt'altro che marginale in quelli che sono stati i programmi di questo mandato della giunta Acquarolli, che l'ha messo davvero tra gli obiettivi prioritari in assoluto. Se pensiamo a tutta la regione, la Fano Grosseto a pieno titolo era una priorità che abbiamo perseguito, che questa regione non riusciva a centrare da decenni e questa giunta è riuscita a realizzare, con la consegna dei lavori che avverrà lunedì 12 a Mercatello sul Metauro. Un successo della filiera istituzionale della nostra provincia, della nostra regione, del centro Italia, che ringrazia il governo nazionale per aver accolto le richieste determinate del presidente Acquarolli e della nostra regione nel sbloccare finalmente i traffici est-ovest passando per la regione Marche, passando attraverso la Fano Grosseto. Che cosa dovrà aspettarsi il territorio di Mercatello sul Metauro da qui a immagino il prossimo triennio? Un lavoro che darà degli effetti immediatamente positivi anche all'economia del territorio, perché le mestranze risiederanno proprio nel territorio di Mercatello sul Metauro e nei comuni confinanti. Al tempo stesso avremo anche alcune problematiche da dover affrontare. Io penso a quei concittadini, mi metto nei loro panni, che vedranno cantieri sui loro terreni, a fianco delle loro abitazioni. Sicuramente un sacrificio, un sacrificio grande, che però è una grande opportunità per il futuro di quei territori e della nostra regione, perché noi vorremmo che i nostri giovani rimanessero a lavorare, ad abitare, a vivere, in quei territori dove sono nati. Lo possiamo fare solo con lo sviluppo, lo possiamo fare solo con le infrastrutture. Ormai tutti sappiamo che le distanze non si misurano più in chilometri, ma si misurano in tempi di percorrenza. Se noi non garantiamo tempi di percorrenza celeri tra i nostri territori e strade sicuri, i giovani non troveranno opportunità di lavoro, le nostre imprese non potranno svilupparsi, ma soprattutto non potremo attrarre nei nostri territori ulteriori interessi, ad esempio quelli che potrebbero gravitare attraverso le marche collegando la nostra regione finalmente con la Toscana.